Autostart in movimento per la terza corsa, un confronto per tre anni Maiden, quindi mai i vincitori di una corsa in carriera, all'uno Federer Griff, due Freedom Order Cis, tre First Wind Kampf, quattro Freedom B, cinque Forze Onore GPD, sei Fury Lux, in seconda fila sette Furious Win Leone, otto Filosofia Jet, nove Furetto VL, Autostart che inizia ad accelerare, si ritrae Fury Lux. Si parte con il galoppo di Freeloader Cis, va al comando Freedom B, numero due, Freeloader Cis squalificato. Insiste Forze Onore GPD all'attacco di Freedom B, quale difende la posizione allo steccato, insiste mano del pistone che tende a passare dopo duecento metri di corsa, passati in quindici e due. Così Forze Onore al comando nei confronti di Freedom B, la terza posizione per Furetto VL, partito alla grande dalla seconda fila, precedendo Federer Griff, poi ancora in corda Furious Win Leone, mentre gli altri sono più indietro con l'avanzata esterna da parte di Filosofia Jet che si trascina. Numero 6, Fury Lux squalificato. 39 per i primi, 400 di corsa e 47,6 per i 600 da parte di Forza e Onore GPD che guida nei confronti di Freedom B che segue da secondo in corda avanti a Furetto VL. Allo scoperto Filosofia Jet risale trascinando Tsi First Wind Kampf, va a fare la terza pariglia Furious Win Leone. 33 questi 400 metri, 1,4 per la metà gara, rallentato in maniera decisa il ritmo, la battistrada Forza e Onore GPD che completa, sbaglia, Forza e Onore GPD al chilometro. Numero 5, Forza e Onore GPD, squalificato. Il numero 8 di Filosofia Jet Freedom B che però tiene le punte e rientra e allora in vantaggio c'è Freedom B. Nei confronti di Filosofia Jet all'esterno, poi First Wind Kampf, in corda Furetto VL, 15 la retta opposta alle tribune. Si difende dal comando Freedom B, all'esterno sempre Filosofia, First Wind Kampf che viene a fare l'arrivo, in corda Furetto VL, poi Furious Win Leone. All'ingresso addirittura d'arrivo è in vantaggio Freedom B che si svincola dai rivali, prova ad arrivare al largo First Wind Kampf ma nel finale Freedom B meritatamente si stacca la qualifica di Maiden dopo una miriade di piazzamenti. Per il secondo posto, First Wind Kampf, piega allo speed Filosofia Jet, 32 ad arrivare, 1,18 e 3 a raguaglio cronometrico per il successo di Freedom B e Riccardo Pezzatini che allena e guida per i colori del signor Gabriele Pagetti. Questo ovviamente non è il replay corretto, il successo di Freedom B e Riccardo Pezzatini nei confronti di First Wind Kampf che dovrebbe aver preso il secondo ai danni di Filosofia Jet, pertanto in numeri 4, 3, 8, l'ordine arrivo molto probabile della terza corsa.